Alle prime luci dell'alba, oltre 100 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari ai domiciliari nei confronti di 7 persone, ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo del gioco d'azzardo e truffa. Contestualmente ai provvedimenti di arresto sono stati eseguiti i sequestri di 14 sale da gioco, 10 immobili, 7 autovetture, quote societarie relative ad 8 imprese, nonché disponibilità finanziarie depositate su oltre 30 conti correnti relativi alle 40 persone complessivamente indagate ed una società maltese per un valore di circa 8 milioni di euro, eseguendo inoltre 30 perquisizioni nelle province di Firenze, Roma, Venezia, Prato e Pistoia. Le indagini hanno preso avvio alla fine del 2013 a seguito di alcuni riscontri emersi durante un controllo ispettivo nel capoluogo impolese nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica. Le fiamme gialle avevano scoperto in quell'occasione che diversi apparecchi da intrattenimento della tipologia slot machine durante il loro funzionamento non erano stati collegati al server nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, procedura necessaria per monitorare i reali flussi di gioco degli avventori e quindi conseguentemente poter calcolare l'imposta dovuta all'erario. Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare l'esistenza di una strutturata organizzazione criminale di cui facevano parte a vario titolo 40 persone italiane e straniere, ben attrezzata per creare sale da gioco clandestine, camuffate da enti associativi senza scopo di lucro come associazioni sportive dilettantistiche, circoli culturali o internet point, ubicate in diverse regioni del paese, tra cui Toscana, Lazio, Veneto, Marche e Emilia Romagna. La tecnica fraudolenta ideata dal Dominus della Truffa, un imprenditore veneziano di 50 anni con la collaborazione di un tecnico informatico, consisteva nell'aver messo a punto una piattaforma di gioco online illegale che consentiva di collegare i videogiochi e slot machine ad un server posizionato a Malta, in grado di conteggiare le vincite senza rendicontarle al fisco italiano. Le 24 sale da gioco clandestine, inizialmente individuate e frequentate per lo più da soggetti di etnia cinese, erano dotate di apparati di videosorveglianza e di sofisticati congegni tecnici che applicati sulle macchine da gioco erano in grado di resettare le stesse nel caso di controlli ispettivi delle forze di polizia, interrompendo immediatamente il collegamento con la piattaforma illegale. Attualmente una stima calibrata su tre sale da gioco abusive scoperte ha consentito di quantificare i giocate mensili effettuate per oltre 10 milioni di euro ed un'imposta evasa per circa 6 milioni di euro. Nei confronti di tutti gli indagati e degli altri soggetti coinvolti sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti di natura economico-finanziaria per verificare la provenienza del denaro e di connessi accertamenti tributari per quantificare l'evasione fiscale compiuta ai danni dell'erario. Grazie. 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 Grazie.